Oroscopo del giorno, domenica 12 dicembre 2021 Ariete Amore, la domenica chiuderà la settimana in maniera negativa con venere ancora sfavorevole. Le situazioni non si sono chiarite e potrebbero esserci problemi e litigi di coppia. Single nervosi anche se stanno affrontando una nuova conoscenza. Lavoro, più tranquilla la giornata lavorativa per chi è impegnato professionalmente anche di domenica. Toro, amore, sarà una piacevole giornata per chi vuole godersi i sentimenti in coppia oppure con una persona nuova se si è single. Il pianeta dell'amore non farà altro che sostenervi oggi, quindi potrete davvero vivervi le emozioni. Lavoro, potrebbero esserci delle preoccupazioni per il semplice fatto che non vi sentite al meglio. Se siete liberi, riposatevi. Gemelli, amore, recupererete un po' di buon umore dopo alcuni giorni abbastanza nervosi e agitati. Questo potrebbe risultare utile per vivere in piena armonia il rapporto con il partner. Miglioramenti quindi anche per i single. Lavoro, le situazioni professionali potrebbero farsi più interessanti, voi sarete sicuramente più vogliosi e positivi. Cancro, amore, questa dovrebbe essere una giornata abbastanza tranquilla, vale a dire che finalmente qualcosa sta andando per il verso giusto, eppure per i quali più solitari e pessimisti potrebbero arrivare nuove emozioni. Lavoro, tutto sereno anche sul lavoro. Sarà che molti di voi potranno riposare durante la domenica. Difficilmente avrete problemi. Leone, amore, fantastica domenica del mese perché vi sentirete molto bene con voi stessi e con gli altri. Le stelle di oggi vi sosterranno a pieno e potrebbe scoppiare il romanticismo e la passione con la persona che avete al vostro fianco. Lavoro, luna favorevole, energie niente male. Sarà un giorno tranquillo per chi deve svolgere impegni di lavoro. Vergine, amore, umore buono e amore al top. In questa giornata domenicale di dicembre sarete romantici e vorrete godervi il vostro rapporto di coppia con il partner. Molto bene anche per i single e le loro conoscenze nuove. Lavoro, relax perché è libero, serenità perché è impegnato nei compiti di lavoro. Giornata ok. Bilancia, amore, attenzione alla luna in opposizione di oggi che potrebbe portare fin troppe tensioni. Questo infatti vi porterà a litigare facilmente con i vostri affetti. I single non si sentiranno tranquilli. Lavoro, una domenica nervosa pure per chi dovrà lavorare. Dovrete tenere a vada animi e istinti. Scorpione, amore. Questa giornata sarà buona anche se non è detto che arriveranno grandi news. In fondo va bene così perché almeno non avete problemi e discussioni. Una domenica abbastanza serena per impegnati e per single. Lavoro, è tranquilla sarà anche la domenica lavorativa ma occhio ancora a quella leggera stanchezza da controllare e gestire. Sagittario, amore. Potreste aver affrontato dei giorni difficili in amore ma oggi tutto andrà molto meglio. Dopo il nervosismo infatti arriverà la calma. Adesso potrete godervi in armonia il rapporto, nuovo o datato che sia. Lavoro, Mercurio sarà ancora in una posizione interessante quindi non abbiate paura di affrontare delle occasioni. Capricorno, amore. La luna in questa giornata sarà tutt'altro che favorevole e la sua opposizione vi butterà a terra. Nella relazione o in un nuovo incontro sarete molto nervosi. Dovrete stare decisamente più calmi. Lavoro, l'agitazione si farà sentire in ufficio. Meglio evitare o potreste avere dei problemi, delle conseguenze poco piacevoli. Acquario, amore. Con queste stelle farete bene a passare del tempo in compagnia di chi amate, senza pensare ai problemi di tutti i giorni. Godetemi questa giornata, anche perché è domenica. Non potrebbe andare meglio di così. Lavoro, molti potrebbero prendersela comoda anche sul lavoro. Se non dovete lavorare rilassatevi, fate quello che vi piace. Pesci, amore. Tutto ok in questa nuova giornata del mese. Le novità amorose arriveranno solamente un po' più in là. Quindi per oggi siate sereni. Questo a prescindere dal vostro tipo di rapporto attuale. Lavoro. Dopo dei giorni di forza, in cui qualcuno ha avuto buone nuove, la domenica sarà da trascorrere in modo più tranquillo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Dopo dei giorni di forza, in cui sta facendo zoomartare in più tutti gli aggiornamenti. No viagne. Non viaggia